Il posto sequestro per la Carontenturist sono state posti sigilli ad altre sei navi per i collegamenti con le isole minori. La compagnia di navigazione annuncia ricorso contro il provvedimento. La cronaca nel servizio di Gianluca Mavaro e le reazioni nelle isole eolie dove si temono disservizi. Nel servizio di Antonella Gurrieri. Altre sei navi per collegare la Sicilia con le isole minori sono state sequestrate dalla procura di Messina. Tre erano state già fermate lo scorso 6 giugno dalla Guardia di Finanza di Palermo. L'inchiesta per il momento coinvolge quattro persone indagate per frode alle pubbliche forniture. Per i PM l'impresa di navigazione Carontenturist nel 2016 non avrebbe potuto aggiudicarsi il bando regionale per assicurare i servizi di traghettamento ad anziani, disabili e donne incinte. Un bando da 44 milioni di euro per le tratte Trapani-Pantelleria, Milazzo-Lipari e Palermo-Ustica. Secondo i magistrati a bordo non venivano rispettati i requisiti di accessibilità nei vari locali, come invece era espressamente previsto. Per il Tribunale di Messina non bastavano le prime tre navi sequestrate a coprire l'eventuale risarcimento e per questo si è proceduto al fermo di altre sei navi. I sindaci delle isole minori sono ora in allarme e scrivono alle istituzioni una lettera appello, chiedendo un intervento urgente. Ho parlato con tutti i sindaci delle isole minori perché siamo tutti nella stessa barca. Oggi c'è un sequestro, ma le disfunzioni, ma le carenze dei collegamenti marittimi sono enormi. Dall'oggi al domani cancellati alcuni dei collegamenti tra Milazzo e Lipari e fra Trapani e Pantelleria. Ora il rischio concreto è che le olie, ma anche le altre isole minori, restino senza rifornimenti. Qui la situazione si sta facendo sempre più drammatica. Già oggi abbiamo riscontrato parecchi problemi per delle varie consegne sia nell'isola di Panarea, di Strombele-Licudi. Adesso ho ricevuto un altro messaggio che domani alcune aziende non potranno riconsegnare la merce perché non ci sono posti nelle navi. Quindi domani il problema si aggraverà sempre di più. Le navi sequestrate ferme nei porti, mentre nelle isole la situazione diventa sempre più incandescente. La paura di ciò che non potrà arrivare sulla terraferma, dagli alimenti all'ossigeno, dalla benzina ai materiali edili e di chi non potrà partire da qui a bordo, per esempio, dei mezzi di emergenza per raggiungere i centri di cura. Sta mandando in tilt l'intero arcipelago. Emergenza improvvisa e inattesa. Quindi ci troviamo anche con problemi nel trasporto dell'ossigeno, anche il transito di alcuni pazienti verso i nosocomi della provincia, quindi attraverso le ambulanze non può più avvenire. In pericolo la stagione turistica, pronta già a partire. Oggi ad esempio non hanno viaggiato alcuni furgoni che trasportano derrate. Questo significa mettere in ginocchio tanto i ristoratori quanto gli albergatori, per cui aver bloccato tre navi prima e sei dopo significa mettere in ginocchio l'economia delle isole. In riunione i rappresentanti delle associazioni eoliane, che contano oltre 2000 associati pronti ad azioni di protesta per chiedere l'immediato ripristino dei collegamenti navali indispensabili per mantenere in attività l'arcipelago che in estate moltiplica per cinque la sua popolazione. Oggi abbiamo deciso, dopo una lunga riunione fatta con tutte le associazioni, di chiedere a tutti gli enti competenti con forza l'immediato ripristino dei trasporti marittimi nelle olie ma in tutte le isole siciliane.